piccolo problema si è tranciata questa vite che tiene sul manubrio adesso vedo di trovare una soluzione con fili ferro qualcosa e la buona serata oggi ho fatto tardi fuori faccia buio sono arrivato qua che era le nove e mezza non trovavo un posto sicuro dove stare alla fine il primo posto che ho trovato detto vada mi butto qua sono a castelfiorentino sono a fianco della statale la statale che porta a siena oggi la giornata è stata piena di imprevisti allora stamattina mi sono svegliato alle 7 mi sono messo in moto sono arrivato alla pasticceria oggi mi sono concesso di mangiarmi la colazione al bar al pasticceria mi sono mangiato un canolo e una brioche alla crema tutti due la crema con un cappuccino meraviglioso perché non avevo fatto spesa ieri parto mi accorgo che le batterie le power bank non erano cariche al cento per cento e quindi il telefono era lì 10 5 per cento 10 per cento sono arrivato a lucca lucca l'avevo vista un mese e mezzo fa bellissima e oggi ho anche girato sulle mura della città che pedonale ciclabile bellissima cercato di trovare la via francigena non ho trovato cartelli sud nord ma non si capisce non sapevo dove andava mi sono messo in strada con google maps anzi oggi ho visto anche la macchinina girare di google maps e quindi sono partito avrò sbagliato non so quante volte strada c'erano delle colline le ho reagirate dopo mi fermo un poco perché oggi faceva veramente caldo era un disastro oggi guardo il monopattino così intanto cercavo di caricare il telefono col pannello direttamente che bello parte carica dopo due minuti non carica più ti sa perché va beh iphone ogni tanto fa i capricci e mi accorgo di aver tranciato la vite che tiene sul manubrio allora mi metto più comodo prima tende bassa anzi ho rotto anche la la tenda due giorni fa le stecche della tenda e quindi ce l'ho tutta storta già è piccola ancora di più quindi cosa stavo dicendo a si prendo vedo del filo di ferro attaccato un tubo lo trancio e lo metto dentro nel perno e sfrutto il perno che è avanzato che era tranciato metà che praticamente quello che tiene su del dritto al manubrio se non c'è questo perno qua il manubrio si chiude vado avanti parto sbaglio strada continuamente purtroppo non potevo usare le mappe del cellulare perché la batteria non c'era insomma cartelli stradali manco a esserle e alla fine avevo finito anche le scotte di acqua sono riuscito a trovare un supermercato mi sono mangiato albicocche due panini con la fette di tacchino e mezzo chile d'albicocche erano un litro di gator no gator e no tè al limone che c'è al zuccheri mi ha tirato su e un po di caramelle e del grana riparto una fatica boia perché c'era un caldo spaventoso cioè veramente picchiava oggi l'ho sentito oggi ero due giorni che ero il fresco sui monti poi riparto mi dava problemi il monopattino mi fermo faccio una modifica riparto non mi soddisfava ancora la modifica perché ogni volta che prendevo un dislivello mi toccava il fondo e quindi era stressante trovate una ferramenta compro le viti butto dentro le viti viti sbagliate ho detto perché dentro era tipo una svasatura non è il cilindro perfetto niente metto cambio sistema il blocco del manubrio lo sposto in dentro ci metto la vita che ho comprato io pulone e parto però notavo qualcosa non vedeva sempre il problema dei dossi delle piccoli avveramenti che fa sì che tocco il fondo sui ammorzatore bam 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 niente prendo di nuovo metto un spessore sotto un pezzo di legno qualcosa cede metto un sasso cede metto un ferro mi vola via alla fine mi sono stufato ho rismontato tutto di nuovo preso i due passanti che avevo che ho comprato uno da una parte e uno dall'altra conficcato perfetto adesso va bene devo stare attento che non si spacchi però le prese belle due ora poi oggi mi è successo anche a non mi ricordo che paesino qua della toscana che sono bei paesini stavo prendendo la fontanella mi stavo lavando la testa il cappello è arrivato un signore mi fa guardi se vuole l'acqua fresca c'è la il fontanello lei schiaccia il bottone esce l'acqua fresca gratuita e ne approfitti e così ho fatto bellissimo bella questo incontro per resto il viaggio a parte queste problematiche di sbaglio di strada e il problema il monopattino alla sera alle sette ho continuato per portarmi avanti e ho trovato la strada giusta finalmente su questa porta siena a siena dovrebbe mancarmi 40 chilometri se non ricordo male e dopo dovrebbe proseguire direttamente a roma speriamo che vada tutto bene e dicevo che alle sette i primi giorni mi fermavo 7 7 mezzo adesso mi fermo la seconda serie mi fermo tardi ma c'ho energie da mandare avanti cioè non neanche sono stanco nonostante tutto il caldo i piedi sono sono contento sono contento va bene dai mi metto a dormire speriamo tutto bene c'ho il traffico della statale sono in mezzo al campo e che qua tanto l'erba alta qua quindi a trovare il posto giusto oggi è stata difficile va bene dai buona ci vediamo al prossimo video grazie a tutti